Bentrovati su Amatecblog, oggi vedremo insieme il Nitecor IntelliCharger i4, la nuova versione 2016. Infatti il nuovo IntelliCharger i4 riesce a mostrare su questa sorta di display la carica progressiva delle batterie e ha delle funzioni molto interessanti che vedremo insieme. Come si può notare le sue dimensioni sono alquanto ridotte per essere un caricatore da 4 batterie 18650, infatti è di appena 13 cm per circa 9 di larghezza. Anche questo i4 consente di caricare diverse tipologie di batterie, batterie IMR, aglioni di litio, batterie lipo, batterie life e batterie nickel cadmio, per cui è molto versatile, ma la particolarità di questo caricabatterie è che riesce a caricare batterie anche ad un ampere e mezzo. Non solo, ma sicuramente vi starete chiedendo se questi sono due tastini. C sta per corrente, V sta per voltaggio, infatti con questo caricabatterie si possono caricare batterie selezionando diverse modalità, selezionando la modalità di ricarica a corrente costante e a voltaggio costante, ed è semplicissimo da utilizzare. Si alloggia la batteria all'interno del suo alloggiamento. Come si può notare, questi LED indicano la percentuale di carica residua. In questo caso queste batterie stanno passando dal 30%, che è la prima tacca, all'80%, per poi arrivare al 100%, che è la terza tacca. Ma se noi volessimo caricare queste batterie più velocemente, quindi ad un ampere e mezzo, bisognerà soltanto selezionare lo slot della batteria che si vuole caricare ad un ampere e mezzo, come in questo caso dal pulsante C. lo si tiene premuto una volta e si potrà vedere questo LED rosso che si attiva. Questo LED rosso sta per 1.5 Ampere. Indica la velocità di carica di questa batteria da 1.5 Ampere. Per deselezionare basterà premere soltanto una volta su C e tenere premuto un'altra volta su C, e si deselezionerà il pallino rosso. Se invece volessimo caricare a voltaggio continuo, basterà selezionare sempre lo slot della batteria. Utilizzando il pulsante C, con il pulsante V si potrà selezionare il voltaggio a cui poter caricare le batterie, che va da 3.7 a 4.2 a 4.35. Semplicissimo da utilizzare soprattutto per chi proviene da un IntelliCharger i2, molto performante e sicuro in tutte le operazioni. Infatti ha un sistema di ricarica della batteria che riesce a rilevare quando la batteria sarà completamente carica e staccherà l'alimentazione. Non emette alcun fastidioso ronzio nemmeno quando le batterie sono completamente cariche ed è addirittura più silenzioso dell'IntelliCharger i2. Ovviamente all'interno della confezione si potrà trovare anche il manuale d'uso e manutenzione per poter utilizzare il Nitecore IntelliCharger i4 a pieno e con tutte le sue funzioni. Amatecblog come sempre vi ringrazia per aver guardato questo video e vi dà appuntamento al prossimo video ricordandovi di lasciare un pollice in su per la video recensione ed un commento per qualsiasi informazione aggiuntiva desideriate.